Terenzio, invece, è un po' più serio. Nelle sue commedie mette in scena le vicende e gli imprevisti della vita di tutti i giorni. Sono proprio i rapporti familiari e sociali che formano la materia principale della commedia latina, tra giovani innamorati di prostitute, gravidanze improvvise, genitori tirchi e così via. Terenzio, a differenza di Plauto, rappresenta tutto questo senza esagerazioni, senza parodie, ma crea delle trame verosimili e realistiche.